questo è il regalo che la città di pesaro farà liliana segre per il suo compleanno ringrazio david vecchiato per questa opera che è un simbolo contro l'intolleranza contro l'odio e per la memoria che regaleremo nei primi giorni di settembre a liliana grazie davvero david no grazie a voi perché io sono onorato di aver potuto dipingere questa immagine e di farlo con dei ragazzi bravissimi i miei assistenti benedetta c'è filippo di reperti urbani e soprattutto di poter farlo in luogo che è una scuola qui c'è ci sono delle lacrime in fondo ci sono dei segni che ricordano un po una bandiera italiana volendo perché comunque è stata nostra responsabilità le leggi razziali che hanno trasformato la vita di liliana in un dolore così grande c'è lei da bambina con suo papà c'è lei ad oggi a 90 anni che sta guardando già verso il cielo in senso che ci sarà nel murale una trasformazione tutto il tempo è in un unico momento in questo momento qua il murale si chiama ricorda il futuro nella memoria